Grazie Presidente, intervengo brevemente perché trovo paradossale questa mozione sentire parlare la destra di Campi Nomadi, per cui devo necessariamente intervenire tutta questa pantomima sul fatto che non si sta facendo niente, sul fatto che loro invece erano molto più bravi quando io ricordo distintamente, e l'ho vissuto sulla mia pelle nei primi due anni di mandato al Consiglio Municipale quando fu sgomberato il Casiglio Novecento e tutta la popolazione del Casiglio Novecento fu spostata a River che abbiamo chiuso noi, prima, in prima questione. La seconda questione è sull'ordinanza della Regione Lazio, anche questa da un po' a destra a un po' a sinistra anche questa l'ordinanza della Regione Lazio, anche questa davvero che lascia un po' basiti per il semplice fatto che si ordina qualcosa che già è nel piano iniziale che noi stiamo portando avanti da cui il primo step era appunto il Campo Nomadi River e prosegue appunto un Castel Romano e che prosegue con questa ordinanza in cui si ordina qualcosa che già si sta facendo da 3-4 anni solo per accapararsi la cosa, un po' se vogliamo fare il parallelo, un po' quello che sta succedendo in Campo Testaccio, non so se avete seguito la questione, cioè si sta ordinando di fare qualcosa un progetto che si sta portando avanti da 3-4 anni, per fare l'ordinanza così almeno diventa tu il merito un metodo politicamente legittimo, ci mancherebbe altro, anzi intelligente, furbo, ci mancherebbe anzi vi rubo anche la mossa se potete permettermi, tuttavia questa mozione oggi riceverà l'astenzione del gruppo del Movimento 5 Stelle, vediamo se poi chiuderà comunque nonostante putiamo contrario a questa mozione. In seconda battuta e in conclusione dico che veramente quello che ho significato ai miei colleghi nel momento in cui ci siamo ritrovati a decidere su cosa votare poi in fin dei conti su questa mozione e brevemente seppur non volendo essere offensione ai confronti di nessuno, veramente nel momento in cui questa assemblea dovesse dare, insomma ricevere le nozioni basiche, le istruzioni su cosa fare rispetto al problema diciamo di romsinti e camminanti da parte della destra insomma sarà il momento in cui gelerà l'inferno. Grazie.